Domani mattina una legge puramente proporzionale e noi siamo sempre stati per una legge maggioritaria. Se vuole un'altra cosa posso dirle e aggiungerle, che con questo schema politico, con il governo che non ha più la maggioranza del Senato su questo percorso e la nostra presenza determinante, mi sembra inevitabile immaginare che a fronte di un nuovo assetto istituzionale che dà più poteri al Premier, sia in termini di assetto istituzionale, sia in termini di legge elettorale fortemente maggioritaria, mi sembra obbligatorio trovare una personalità di altissima garanzia e di alto profilo per il Quirinale. Lì vogliamo partecipare e condividere la scelta.